che cosa è successo nella nostra intervista un vigile del fuoco usa la parola scoppio scoppio mi sembra un po esagerato abbiamo avuto una piccola deflagrazione all'interno di un forno durante la bruciatura di normali spazzature orafe il forno è un forno moderno quindi capace di autoregolarsi con la pressione interna quindi avendo avuto una crescita un po rapida di pressione ha aperto le voleva fatto uscire un po di fumo questo fumo che per noi è stato assolutamente non traumatico quindi non ha non ha creato nulla all'interno dell'azienda ragazzi hanno continuato a lavorare senza nessun problema si è trasferito l'abbiamo imparato dopo nella fabbrica attigua della ital preziosi generando qualche problema perché naturalmente avrà avuto un po di di minimo di cattivo dolore naturalmente era avuto ripeto però piccole quantità piccolo piccola deflagrazione e in un tipo di lavoro che per noi è abbastanza usuale quindi si stavamo lavorando delle spazzature orafe normali che contenevano contenevano in questo caso sono rifiuti un po misti no c'è un po di di tutto la base sono i metalli preziosi quelli che noi andiamo a cercare ipotizziamo ma ripeto un'ipotesi che magari c'era anche una bomboletta spray e che è quella che poi ha fatto ha fatto il lavoro del botto il fumo che si è esprigionato era tossico? tossico non era piacevole tossico mi sembrerebbe un po troppo direi proprio di no è chiaro uno non può mettersi a respirare del fumo fastidioso io lo definirei più in questo modo sono cose che possono capitare a noi la prima volta che capitano ogni tanto si sentono dire questi forni agiscono molto bene io direi che se non ci fosse stata questa strana comunicazione fra il nostro ambiente quello del delital preziosi oggi non saremo sicuramente a parlare di di questo problema ci sono disposizioni di sequestro di fermo che al momento soltanto il forno in questione che verrà poi controllato aperto controllato il contenuto verificato come io mi aspetto che è tutto normale quindi sarà una cenere contenente metalli preziosi da recuperare